inizio auto inizio gara ciclistica vanno a segnare il traguardo plante, il terzo e l'ultimo in Pianale Talbiano poi il gruppo uscirà dalla città di Traviso, potrà verso il Montello grazie per essere presente in questa 96 edizione della popolarissima attenzione e poi il comunicato da Radio Corsa e Informazione curata dal Radio Corsa e del vice di Versano del Grappa alle tette dell'ultimo chilometro la natura davvero elevatissima per il gruppo poi da parte per prendere in prima posizione questa curva a destra e curva a sinistra e ancora curva a destra ed ecco il gruppo che si presenta ai 200 metri prima del traguardo volante gruppo compatto, ben partito alla volata traguardo volante il terzo e l'ultimo in Pianale Talbiano 105 se lo giudica il secondo traguardo volante per Andrea Lovato bene, terzo e l'ultimo traguardo volante visto da Andrea Lovato il gruppo ci lancia appunto verso il Montello la divorzio e l'ultimo in Pianale Talbiano eccederà le importanti notizie per devorci della gara grazie a tutti grazie a tutti